Ciao a tutti, bacione l'amica della vostra amica, sì come ogni lunedì, bring with me poi rientro a scuola a tutti, mi spiace dirlo però devo dirlo chi magari ha già iniziato non lo so, comunque i miei figli iniziano oggi il 12 anzi Jason domani il 13 e niente, decorazione tutta animalosa e questa qua è la settimana appunto che va dal 12 al 18 di settembre e niente poi apriremo le patate, faremo i saluti, apriremo le patatine queste di Miraculous, Ladybug dopo, dopo, adesso andiamo a fare le decoration, le correction allora aspetta che sposto qui tutto qua prima che mi cata tutto allora, paper tape, washi tape, ciucci, 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 già questo tutto animaloso col procio, il bel proccione qua, lo scogliattolino, la volpina tutti gli animaletti più belli che ci possano essere al mondo e poi vabbè gli sticker vi faccio vedere dopo prima di tutto andiamo a scrivere, sì dai, gli sticker li attacchiamo dopo allora, 12 lunedì ok poi 13 martedì appena questa avete visto, vabbè, stabilo, marrone ho preso questa qui aspettate che vediamo se ci andiamo un pochettino poi 14 mercoledì 15 giove giove poi 16 venerdì 17 sabato e 18 domenica sabato il mio meditato, sperato, relax e domenica la allora adesso andiamo ad attaccare la scritta e speriamo di starci per parte aspettate un attimino vediamo prima di tutto andiamo a prendere la R vediamo un attimo attacchiamo il mio sperato, meritato, relax facciamo un po' così, sperando di vorrei forse ce la facciamo ci stiamo vediamo e queste sono carine un po' più grande un po' più un po' tutte un misto e la X vediamo attacchiamo questa ce la facciamo stare così si si ci sta per pelo ok adesso andiamo ad attaccare i nostri sticker che sono questi qua di Teddy adesso andiamo ad aprire il paquetone il paquetone questi fantastici animalotti stupendi ok oh quanto è bello oh prima di tutto tacchiamo il procio il mio bel procione che bello che è stacchiamo ok e lo mettiamo qua sulla domenica tanto sono sicuro che poi ce ne attacco un altro di procio perché è bellissimo poi attacchiamo una bella volpina che richiamano anche che sono appunto gli animaletti che ci sono anche sul paper tape qua voilà poi invece attacchiamo anche un alberello perché sono la domenica dato che c'è un po' più spazio facciamo un po' di decoration poi vediamo vediamo non li vuoi attaccare l'orsetto ok qua il cerbiattino bambi li mettiamo li mettiamo li qua ok aspettate ecco adesso vediamo un'altra volpina questa è fantastica troppo bella un po' difficile non voglio rompere niente e voilà che se no si rompono se si tira un po' troppo forte uh c'è lo scogliattolino e voilà così l'ho messo un po' storto però fa niente poi c'è il ricetto fantastico così e ci mettiamo vediamo un attimino ci mettiamo questa piantina vicino al riccio che è l'animaletto quello fatto un pochino più piccolino perciò ci sta bene la piantina e poi qua ci mettiamo i sassolini poi vediamo ci sta bene con un'altra volpina che io adoro perché avevo già fatto una decorazione con gli animali però erano piuttosto tipo un po' su dei tigri giraffe le zebri così allora questi sono più da foresta la volpina il prozione il riccio il bambino mettiamoci anche una la puzzola dove la mettiamo la puzzolina la mettiamo qua così e poi noi ci mettiamo due ciuffetti d'erba al rossetto aspettate che ce la facciamo così e poi lo scoiattolino ci mettiamo quest'altra pianta così ecco qua e qua manca qualcosa al nostro amico bambi ancora due ciuffetti di erba e un fiorellino e voilà un cuorellino mettiamoci un fiorellino anche qua un altro lo mettiamo se riempio toglierlo qua e poi qui ci manca anche qui qualcosa di puccio pucciosone mettiamo qua ok aspettate che faccio così e penso che possa bastare abbiamo riempito di animaletti del bosco della foresta chiamateli come avete voglia voi adesso andiamo a scrivere sul lunedì come sempre video agenda più saluti che adesso andiamo a fare e se non ci siete riscrivetemi e vi saluto lunedì prossimo e però non perdetevi il mercoledì e il venerdì gli altri video perciò iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto adesso andiamo ad inserire la decoration me l'ho aggiunto ecco qua tutta animalese oh belli che sono gli animali così ok e voilà facciamo i saluti e poi apriamo le patatonze di Miraculous Ladybug allora che mi sono state consigliate da uno e l'altro metto che c'erano allora infatti lo trovate allora Mary96 ciao Veronica di Tolve ciao Emily ciao poi Gaia Gerardi ciao tesoro che ieri è stato il tuo compleanno perciò con la mia voce adesso ti faccio gli auguri adesso così anche qua nel video anche se te li ho già fatti poi Elisa Santoro ciao Gavino ciao Stefano Noero ciao Elisa Mesaroli ciao Sissi Clietta ciao Simo Kawai ciao Dani ciao Claudia ciao Marina Schenone ciao Giada Boschetti ciao Giulia Meteori ciao Annita sua figlia Mirian ciao Lina De Rosa ciao Sara e ciao Vero 1991 ciao adesso andiamo a aprire chiudiamo l'agenda tacchete e sono queste solite che che fanno con fantastiche surprese ogni tanto fanno appunto cambiano sempre e sono le San Carlo Junior e contengono gli orecchini qua che io terrò via perché regalerò giustamente però voglio farvi vedere come sono adesso andiamo a aprire il primo pacchettino meno di un euro le ho pagate sì non mi ricordo bene patatina è questa che io assaggio sempre ma lo sapete nei video le assaggio e andiamo a togliere il primo ah vi faccio vedere dietro scusate quanti sono i tipi che si possono trovare poi con lui Chan Noir mi pare che si chiama se non mi ricordi se sbaglio lo vedevo tanto tempo fa il cartone con i miei figli poi ci sono versione rosa azzurra rossa e questa con lui insomma sono cinque paia diversi uno verso l'altro potete trovare uno di questi andiamo a aprire il primo a togliere il primo allora aspettate che carini sono in plastica logicamente non sono come si dice con il buco ma hanno la clip vedete hanno la clip così con la clipettina dietro in plastica e qua abbiamo trovato c'è il brillantato dietro e c'è su lei che schiaccia l'occhio così fa il sorrisino e abbiamo trovato aspettate queste credo si fa così scusate fa così e questa qua con rosa così carini dai per le bambine sono belli possiamo aprire il secondo speriamo di trovarli diversi perché se no patatine sono sempre vediamo se magari c'è un'altra doppia ma non credo troppo anche no mangiamo un'altra patatina scusate c'ho fame togliamo qua che sono diverse dai questa è versione rossa allora qua è vestita normale qua invece è proprio vestita da ladybug aspettate che non c'è l'apertura facilitata volevo prendere la forbice ma infatti che qua non la trovo eccola qua ecco e voilà togliamo gli altri due sempre così fatti rotondi e questa volta c'è l'e appunto in versione non so se si vedrà mai aspettate che vi faccio vedere uno per tipo così ve li metto un po' vicino magari vediamo se si mette bene a fuoco per farvi vedere da vicino non credo però magari riesco a farli vedere un po' meglio ecco così è a fuoco adesso così vedete due di questi c'è un paio un paio logicamente nelle due versioni dai carine aspettate che adesso mettiamo le coppie insieme appunto abbiamo trovato questo e questo dai carini a posto vi ho fatto vedere anche che mi è stato detto prendili 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 che così meno ci fai vedere infatti vi ho fatto vedere anche questo niente patatini aperte agenda fatta buona settimana a tutti inizio a scuola oggi siete a scuola la maggior parte almeno sì penso credo tutti penso adesso non lo so io in varie parti d'Italia si iniziano tutti il 12 quello che è vi ripeto non lo so infatti vabbè mio figlio inizia al 13 Sharon inizia al 12 vabbè quello che è comunque purtroppo d'altronde le vacanze sono finite buon rietro arriveranno quelle di Natale evidente buona settimana a tutti complimenti lunedì prossimo e altri video settimana ciao ciao dalla Nica ciao ciao ciao